Buongiorno, sono Giovanni Cuomo, proprietario dell'azienda dei vini del Cavaliere. In effetti la nostra azienda è alle porte del Cilento, siamo a Pestum. La nostra produzione è di vini del Cilento come Aglianico del Cilento Doc, Fiano Cilento Doc e poi abbiamo dei Pestum IGT come il Rosato, il Mimì che è fatto di Barbera Sangiovese Cabernet Sauvignon e anche del Moscato, Moscato spumantizzato o dolce con 50 mg litro, il minimo per essere chiamato dolce. La nostra azienda è di circa 3 ettari a vigneto, non ci occupiamo solo di vitivinicolo ma anche di ortofrutta. Anzi, soprattutto la nostra azienda nasce come ortofrutticola e poi successivamente è vocata alla viticoltura. La produzione annua dei prodotti è di circa 25.000 bottiglie. La vinificazione dei vini bianchi è fatta soltanto in acciaio, mentre i rossi hanno una fermentazione in acciaio per poi essere affinati in barrique di rovere francese. Niente, vi invitiamo a visitare la nostra azienda, siamo in via Feudo-La Pila numero 16, vicinissima alla zona archeologica di Pestum. Vi invitiamo in azienda, venite ad assaggiare i nostri prodotti. Grazie a tutti.